Allora amici, nuovo video, stavolta è un aspetto di video di ringraziamento perché come mi faceva notare qualcuno sono stranamente arrivato, anzi non stranamente evidentemente sono cose che fanno piacere, al 501 visualizzazioni con 725.132 visualizzazioni totali dei video insomma, nell'ultimo mese sono 20.000 visualizzazioni, non sono risultati proprio brutti, insomma mi fa piacere che sia arrivato a questo traguardo del 500esimo iscritto, anzi è arrivato al 501 tra l'altro, giusto per approfittare, vi faccio vedere chi dovrebbe essere in teoria il 500esimo iscritto che dovrebbe essere questa Giulia Not GT, questa qui, ora in questo momento non ho neanche internet collegato perché ho il wifi che non prende nulla, sono nel parcheggio dell'università e non arriva e niente, questo è il tutto, che cosa dire, grazie di tutto questo qualcuno mi diceva perché non fai un video particolare o cosa del genere per ringraziare i tuoi 500esimi iscritti allora siccome proprio io non ne ho la minima idea di che cosa fare, mi erano venute idee ma non mi soddisfavano, io lascio a voi nei commenti, scrivetemi voi che cosa vorreste vedere come video speciale per i 500 iscritti del canale e poi eventualmente valuterò le proposte grazie a tutti